E questa sera allora la nazionale di calcio si gioca la qualificazione agli europei. L'Italia in trasferta in Georgia, dove è molto freddo, la temperatura è quasi polare e il tifoso Fofò Purtusu è diventato una mummia. Fofò, ma che cosa sei? Mummia! Che cosa sei? Mummia! Ma dove stai andando? A Georgia! E lì che tempo fa? C'è freddo! E allora come sei diventato? Sono diventato del ghiaccio come una mummia! E come sei? Sono diventato del ghiaccio come una mummia! E come sei? Mezzo vivo e mezzo morto! Ma qui c'è una bara! Sogno metà di bara e metà senza bara! E perché? Perché c'è freddo e c'è ghiaccio a Georgia! Ma tu in Georgia che cosa ci sei andato a fare allora? Per venire una partita Italia-Giorgia! Deve vincere l'Italia per qualificarsi agli europei! Sì, deve vincere l'Italia per qualificarsi agli europei! Magari 2 a 0, magari 1 a 0 ma contento! E tu sei andato lì nonostante sia diventato una mummia! Sì, sono stato lì nonostante che sono diventato una mummia di ghiaccio che c'è freddo! Ma non lo sapevi quando sei partito che saresti diventato una mummia per il freddo? Non lo sapeva che sono diventato una mummia che c'era freddo assà! Se non manco c'eva a Georgia io! In Italia mi stava nella mia città da Grigento! Ma ora allo stadio ci vai come una mummia! Sì, allo stadio ci vai come una mummia! E le fiatate le puoi fare lo stesso? A così se ci vai come una mummia ci porto fortuna all'Italia! Che vinci magari 2 a 0 o 1 a 0! Due fiatate? Due fiatate per l'Italia che hanno fiatato e corrono in campo! Ma lei puoi fare lo stesso le fiatate? Sì, allo stesso le posso fare come una mummia! E allora falle lo stesso? Vabbè due fiatate belle forti! Ma c'è tanto freddo? Sì, c'è tanto freddo qua! Che c'ho ghiaccio! C'è freddo! Un minuto in cagiorgia! Sono addimentati tutti i mummi come mia! Un minuto in cagiorgia! Sono addimentati tutti i mummi come mia! Che c'ho ghiaccio! Grazie.